Cari spettatori, buonasera, nuova edizione della TG Question Time, di fronte a me il sindaco di Novara Alessandro Canelli, buonasera. Buonasera, oggi è venerdì 10 febbraio, una data importante, si celebra e si ricordano le vittime delle foibe, anche a Novara, le celebrazioni che si sono tenute al villaggio Dalmazia. Sì, come ogni anno, da ormai 18 anni a questa parte, perché la celebrazione del giorno del ricordo che commemora per l'appunto quei massacri che sono stati compiuti dai partigiani titini, tra la fine della seconda guerra mondiale e l'immediato dopoguerra, proprio nelle zone della Dalmazia, dell'Istria, di fiume, è stato per tanti anni dimenticato e trascurato come tema, come argomento. Solo nel 2004 una legge nazionale ha istituito questa giornata di commemorazione, la giornata del ricordo per l'appunto, che va a rinfrescare la memoria su quello che è successo in quegli anni terribili, là in quei luoghi, ma anche per ricordare l'esodo, l'esodo di tanti profughi Giuliano Dalmati che si sono spostati nel nostro paese, sono stati sradicati dai loro territori, dalle loro abitazioni, dalle loro famiglie e sono venuti a stare qui in Italia, ovviamente, ed erano italiani comunque loro. Una parte di questi sono venuti anche qua a Novara, hanno trovato ospitalità presso le caserme, in particolare la caserma Passalazia, dove sono stati ospitati circa tra i mille e i millequattrocento, diciamo in un periodo che va dal 1947-48 fino al 1953. Poi fu costruito il villaggio d'Almazia, dove trovarono ospitalità ben 300 famiglie e quindi piano piano questa comunità sradicata dai propri territori, entrò a far parte e si integrò nel tessuto sociale della nostra città, diventando a tutti gli effetti una comunità novarese. Certo. Senta, è un momento di ricordo, purtroppo, e l'abbiamo già detto anche nelle settimane passate, il ricordo purtroppo oggi viene supportato da dei fatti che sono quanto mai vivi, purtroppo. Cioè abbiamo parlato di Seconda Guerra Mondiale, abbiamo parlato di questi eventi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma a oggi, e l'abbiamo sentito e continuiamo a sentirlo in questi giorni, una situazione a livello internazionale che a distanza di 12 mesi, parliamo di un anno, non si attenua, ma anzi si aggrava. La notizia anche di poco fa, missili che sono partiti dal Mar Nero, missili russi, hanno sorvolato questa volta pericolosamente i paesi dell'Europa, Romania, Moldavia. Quindi, quanto mai oggi bisogna ricordare, però bisogna ricordare e bisogna anche ammonire, perché quanto mai purtroppo siamo vicini a un periodo davvero drammatico e terribile. Sì, è così, ma ormai è tempo che lo diciamo. Noi abbiamo fatto la nostra parte qui in città, adesso io non voglio entrare in questioni geopolitiche internazionali, perché non mi sembra il caso. È evidente che siamo tutti allarmati per tutta una serie di questioni, innanzitutto per la tragedia umanitaria che è in atto in Ucraina ormai da tantissimi mesi, siamo quasi a un anno ormai, il 24 di febbraio mi sembra che ci sia la data, la ricorrenza dell'inizio della guerra in Ucraina, russa Ucraina. Ma anche per le ricadute, ovviamente al di là della tragedia umanitaria, anche per le ricadute dal punto di vista economico che hanno investito l'Europa intera, il mondo intero, forse l'Europa più che il mondo, e in particolare anche il nostro paese. Noi sappiamo che una parte della spirale inflazionistica che ha caratterizzato gli ultimi mesi è determinata anche dall'innalzamento del costo di energia, che a sua volta è determinato anche ovviamente dal conflitto russo-ucraino. Tutti noi speriamo evidentemente che possa concludersi nel più breve tempo possibile, però mese dopo mese ci rendiamo conto che sta diventando sempre più difficile e quindi ci rendiamo conto che questa è una situazione che deve essere continuamente attenzionata e governata da tutti, ovviamente, e l'Europa in questo può avere un ruolo importante. Quello che mi sento di dire è che comunque sia non si debba arretrare di un millimetro, perché c'è un fatto che è stato invaso un altro paese, è stata invasa la legittima, è stata intaccata la legittima sovranità di un paese, pensate se lo avessero fatto a noi. Magari noi ci saremmo arresi dopo due minuti, non penso, però comunque sia il popolo ucraino in questo momento sta dando prova di una grande forza, di volontà, di una tenacia incredibile, perché non vuole arrendersi a un nemico che gli ha invaso il territorio e che se ne vuole appropriare. Io non entro nei termini della questione dal punto di vista geopolitico. È un suo commento comunque personale, essendo lei politico. Ripeto, fatto sta che comunque sia di fronte a certi principi non si deve arretrare mai. Senta, un altro grosso problema e straziante, l'abbiamo visto in questi giorni, il terremoto che ha colpito Turchia e nord della Siria. Si parla a oggi di 22 mila vittime, quindi un numero spaventoso enorme e purtroppo le speranze man mano che vanno avanti le ore di trovare qualcuno ancora vivo diventano sempre più labili. Come sempre l'Italia, il nostro paese, ma anche la nostra città dà il meglio di sé con le donazioni e la solidarietà. Anche in questo caso avete predisposto, insieme alle associazioni che si stanno occupando di questo, avete predisposto degli aiuti, giusto? Sì, in particolare Annaida Russo, che è neonovarese dell'anno, che ha fondato e gestisce l'associazione Oana, che già lavora nei territori siriani, martoriati da anni di guerre e dall'occupazione dell'ISIS, ricordiamo che la Siria ha avuto tantissimi problemi negli scorsi anni e continua ad averne. Continua ad averne. Diciamo così che oltre a questo ci si è messo anche il terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria con migliaia di morti. L'associazione Oana ha predisposto una raccolta fondi per poter immediatamente portare aiuti umanitari in quei territori, in quei paesi che conosce bene perché li frequenta molto spesso, quindi ha i canali per poter entrare in tutta sicurezza e poter consegnare effettivamente, stiamo parlando di medicinali, di vestiti ma anche di risorse economiche, è stato predisposto ovviamente un conto corrente con un IBAN dedicato per poter raccogliere fondi. Se si dona all'associazione Oana si può stare tranquilli che quei fondi verranno usati bene e correttamente. Senta, un altro argomento più politico che riguarda strettamente la nostra città è quello del bilancio in discussione. Lunedì tiriamo le fila praticamente. Come stanno le cose, su che cosa avete lavorato principalmente? Il bilancio è il documento programmatico, perché ci sono tanti documenti di bilancio che devono essere approvati durante l'anno. Quello di lunedì sarà il bilancio cosiddetto previsionale, quello che dà il via alla possibilità di spesa per i servizi e gli investimenti della città durante l'anno 2023. Quindi è un documento di fondamentale importanza. Senza l'approvazione di quel documento la città si ferma. Si blocca. Si blocca, perché non hai più la possibilità di erogare determinati servizi, non hai più la possibilità di ottemperare alla programmazione degli investimenti che sono stati predisposti. Voi pensate quanti investimenti stiamo facendo adesso e dobbiamo iniziare sul tema delle scuole, i ponti devono essere sistemati. Senza il bilancio approvato, come vai a fare la sistemazione dei ponti? Quando ovviamente ci tranno la possibilità di farla? Quando ti sequestreranno ovviamente il cantiere, il ponte più che altro. Senta, richiedo, è stato più difficile rispetto agli anni scorsi, proprio per quanto lei diceva prima, i problemi economici, le ricadute di tutto quello che... Ma no, c'è stata una maggiore interlocuzione dal punto di vista politico, chi segue i giornali ha potuto seguire la vicenda, nel senso che proprio perché volevamo avere un bilancio, perché accanto al bilancio c'è anche il documento unico di programmazione, sono due documenti che vanno di fare passo. Il bilancio sono numeri che traducono quello che l'amministrazione vuole fare, che scrive, quindi fa proprio la narrativa e scrive la progettazione sia strategica che operativa di quello che vuole fare. Ecco, sulla progettazione strategica e operativa abbiamo concordato con l'opposizione una serie di approvazioni di alcuni emendamenti, anche per non ingolfare troppo la sessione di bilancio, perché no, sarebbe diventata quasi ostruzionistica. Come devono fare sempre l'opposizione, come fanno in tutto il mondo e in ogni consesso istituzionale. Qui non è mancato, ma gli emendamenti sono arrivati anche da altre parti. Poi sono arrivati alcuni emendamenti anche dalla maggioranza e abbiamo discussi, abbiamo trovato una quadra su tutto. Come è giusto anche che sia, diciamo così, in una diciamo così, in un'amministrazione che ha voglia di curare bene tutti gli aspetti e tutte le sensibilità che la compongono. Perché poi, d'altronde, le amministrazioni che riescono a fare meglio, è vero che sono quelle più solide, quelle dove hanno meno problemi, dove si litiga di meno, dove c'è maggiore collaborazione, ma sono anche e soprattutto quelle dove emergono più idee. Idee e confronti. Idee e confronti che però ovviamente devono essere condivisi, se no ognuno va per la sua stessa. No, certamente. Senta, quindi a questo punto per lunedì lei è positivo? Sì, sono positivo perché c'è stata una condivisione, sono stati approfonditi tutti i vari temi e quindi contiamo lunedì di approvare questo bilancio che è il settimo bilancio dei miei due mandati, un bilancio sano, un bilancio che ovviamente come tutti i bilanci di tutti i comuni risente dei rincari energetici, dell'aumento dei costi dei materiali, ma nonostante questo siamo riusciti a tenerlo in quadro e ad assicurare i servizi di qualità per la città, c'è sempre da migliorare per l'amor del cielo, si può sempre farlo, ovviamente non troviamo i soldi sugli alberi, dobbiamo dare spazio a tante richieste, tante istanze, tante necessità, tanti bisogni della città, il bilancio sociale è rimasto corposo e questa è la cosa più importante in un momento come questo, ci sarà la possibilità in corso d'anno di valutare sulla base delle entrate e delle spese effettuate ulteriori miglioramenti che dovrebbero verificarsi, che potrebbero verificarsi nel caso in cui emergano ulteriori istanze, ulteriori esigenze, perché poi non è che tu approvi il bilancio previsionale ed è scritto sulla pietra, durante l'anno tu lo puoi modificare attraverso le variazioni di bilancio a seconda di come vanno le entrate, ma il Comune di Novara fortunatamente a differenza di tanti altri comuni italiani ha un bilancio sano, un bilancio solido che abbiamo messo a posto in questi anni, abbiamo debiti non alti, siamo riusciti ad ottenere tante risorse dallo Stato quindi senza indebitare i cittadini novaresi, non abbiamo problemi di cassa, abbiamo una dinamica finanziaria buona, riusciamo a pagare i fornitori in tempi molto più rapidi rispetto ai massimi consentiti e quindi diciamo che stiamo andando bene. Quindi da ignorante in tema politico mi chiedo se voi vi siete comunque confrontati con tutte le parti politiche a questo punto, i giochi sono fatti, quindi verrà approvato o esce sempre... Ma di solito il bilancio viene approvato. Ecco, perché vi siete già confrontati. Ma certamente sì. Ecco, va bene, senta con questa nota positiva ci salutiamo, tra l'altro abbiamo parlato di lavori pubblici quindi vi ricordo che domenica alle ore 20 avremo l'intervista all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Novara Rocco Zoccali quindi parleremo ovviamente di ponti, di lavori sulle strade, quindi viabilità, nuovi progetti che quindi lei mi conferma potranno essere portati avanti. Certamente sì. Bene, la ringrazio, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Appuntamento a domenica, ore 20, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.